alzati in piedi, mi ha gianciato tutto pettorale, cosciali che sono i più importanti pettorale, ok, adesso mi alzo alzati va bene, tieni lì, tieni pure lì sotto le braccia mettila sotto anche qua adesso diventerò, aspetta metterò di fianco come l'altro giorno perché c'è troppo vento no, troppo ecco girati un po' così ok adesso quando lei opporrà resistenza, quindi noi cerchiamo di contrastarla e tu vai giù puntando quell'albero la davanti a me si e tu dove vai? io ti seguo sono attaccato dietro però adesso tu ti sposti qui dove sono qua e vai giù a me a me voi a me corri 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 voll si No, lo metti di comoda. Va bene, la telecamera. Oh, merda. Perché? Questa è la termica, la senti? Figa se la sento. Stai comoda? La telecamera, mettiti in tascia, poi mettiti comoda. E' un barometro che traduce la quota, cioè le differenze di pressione in metri. Stai sempre registrando? Sì. No, fai a tirare anche su verso la via. Sì. 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 Sì.